Ben trovati, siamo con Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera. Ben trovato. Grazie. E allora è stata una giornata movimentata, si è stato costretto a dispellere tre deputati dei 5 Stelle, ecco, com'è gestire questo doppio ruolo in qualche modo? In realtà in tutto erano otto le persone allontanate dall'aula, semplicemente perché hanno violato il regolamento della Camera per quanto riguarda quello che si può fare e quello che non si può fare in aula, lo hanno fatto per protestare contro questo decreto sulla Banca d'Italia che regala 7 miliardi e mezzo di Euro alle banche private, prendendole dai fondi della nostra banca e le ho espulse, per me le regole valgono soprattutto quando ci sono i miei a violarle. Ma qual era nel concreto il motivo alla base della contestazione? La questione è Banca Italia, in questo momento c'è un decreto, già legge, perché è un decreto legge che il Parlamento sta convertendo, che fa una rivalutazione delle azioni di Banca Italia, attingendo dal fondo di riserva di Banca Italia che è fatto di fondi pubblici e trasferisce 7 miliardi e mezzo di Euro alle banche private. È un'operazione che farebbe rabbrividire qualunque paese nel mondo, ma in questo momento noi stiamo parlando di legge elettorale e quindi tutto va bene, 7 miliardi e mezzo li regaliamo alle banche private senza che nessuno se ne accorga. Intanto è stata spostata la discussione su Terra dei Fuochi. A proposito di Terra dei Fuochi, volevo chiederti qual era la vostra posizione, qual è la vostra posizione sul decreto? La posizione sul decreto è, prima di tutto, si è persa una grande occasione, cioè quella di poter far controllare i soldi che arriveranno in Campania non alla solita politica, ma a comitati, associazioni, personalità scientifiche che conoscono il fenomeno da anni. Questo non lo si è voluto fare. Quindi tutto poi viene a catena. Se io non creo un controllo valido sui soldi che arrivano in Campania, per le bonifiche, per la lotta ai roghi, finisce come con l'epoca Bassolino che spendiamo 500 milioni di Euro in call center. Quindi il più grande pericolo di questo decreto è questo. Poi dentro era un decreto vuoto quando l'ha presentato il Ministro Orlando, adesso ci sono un po' di fondi per lo screening. Perché è un decreto vuoto? Un decreto vuoto perché all'interno non ha nessun provvedimento che realmente cercava di risolvere le questioni. Non c'era lo screening sulla popolazione, adesso è stato introdotto, ma non si danno i fondi agli ospedali per combattere il problema dell'innalzamento dei tumori. Quando lo scopriremo con quali fondi i nostri ospedali riusciranno a combattere l'innalzamento dei tumori e i casi che si presenteranno. Secondo, non si responsabilizzano i cittadini perché non si crea quella rete che doveva controllare i soldi. Terzo, si gestiranno i soldi attraverso i soliti enti che in questi anni hanno provocato questo disastro. Noi il 28 dicembre abbiamo raccolto in una manifestazione, abbiamo fatto a Napoli un evento pubblico, abbiamo raccolto gli emendamenti che venivano dai cittadini, cioè le modifiche da integrare in questo decreto e ce ne sono 50. Questi 50 emendamenti si stanno discutendo tuttora alla Camera, di questi 50 qualcuno è stato già bocciato dai partiti. Se tu guardi l'aula, da in alto a sinistra, in basso a destra, trovi tutti gli attori che hanno provocato questo disastro in questa regione e sono quelli che oggi stanno venendo a proporre soluzioni. Questo per me è surreale. E come voterete? Voteremo contrario se questo sarà articolato, a meno che non appena riprenderà la discussione la vecchia politica che siede in Parlamento, venga folgorata sulla via di Damasco, decide di approvare gli emendamenti dei cittadini, abbiamo creato l'articolato più bello degli ultimi 20 anni e allora votiamo favorevole. Infatti una delle obiezioni più forti al decreto riguarda proprio questo, ma in che modo i cittadini potrebbero poi ad esempio controllare l'attuazione delle bonifiche, cioè il pericolo come tu accennavi prima è che far arrivare tanti soldi per le bonifiche senza nessun controllo possa in qualche modo essere destabilizzante. Il Movimento 5 Stelle in Campania ha una rete di 200 gruppi locali. Questi gruppi locali faranno come i vecchietti quando si mettono davanti ai lavori pubblici. Si mettono lì e vedranno che cosa faranno le aziende a cui stiamo mandando i soldi, vedranno i comuni e le regioni come stanno spendendo i soldi. Questo è l'ultimo treno che abbiamo come Campania perché è scoppiato il fenomeno mediatico, però non deve essere un boomerang perché per ora ha danneggiato solo la nostra agricoltura. Era prevedibile, però adesso vogliamo risolvere il problema e tra 40 anni magari regalare questa terra di nuovo salubre alle future generazioni oppure vogliamo fare un grande spot elettorale come hanno fatto Renzi e Orlando, sono venuti qui, hanno ascoltato tutti, sono andati lì e hanno fatto capire che non hanno capito niente. Ma tra questi 50 emendamenti di cui tu prima mi parlavi ce ne sono almeno 2, 3, 4 ai quali mantenete particolarmente, per i quali siete pronti comunque a dare battaglia in Parlamento? Ma certo, stiamo facendo battaglia in Parlamento su 2, 3 fondamentali che riguardano i reati ambientali per esempio e le altre questioni per esempio nel potenziare le forze dell'ordine dal punto di vista ambientale. stiamo cercando di creare nuclei ambientali in tutte le procure e forze dell'ordine per permettergli di affrontare questo disastro. Noi siamo tra le regioni più giovani d'Italia, secondo la legge abbiamo meno fondi da Servizio Sanitario Nazionale per affrontare le patologie tumorali, però siamo anche la regione che ha avuto l'innalzamento negli ultimi 10 anni del tasso di patologie tumorali, quindi oltre al danno, la beffa e su questo ci stiamo battendo per cercare di invertire questa tendenza dal punto di vista normativo e riconoscere alla Campania uno stato di disastro ambientale. L'esercito, la vostra posizione riguardo qual è? La nostra posizione iniziale era quella di utilizzare l'esercito finché non avessimo finito l'incontro con tutte le forze dell'ordine e le procure per cercare di capire qual era la soluzione migliore. C'è una nostra proposta di legge depositata, che poi ha anche un emendamento al decreto, è una proposta di legge Nunes che appunto riorganizza in Campania le forze dell'ordine proprio dal punto di vista ambientale. Le forze dell'ordine, quelle anche in tutta Italia, devono cominciare a ruotare intorno alle grandi tematiche ambientali perché sono state il vero business degli ultimi 30 anni e oggi finalmente si sta scoprendo qualche responsabilità, però mancano le competenze. La polizia fa un'inchiesta, fa un'indagine e magari deve chiamare sempre l'ARPAC per farsi mandare gli esperti, ma l'ARPAC non ce li ha tutti questi esperti. Poi cominciare a portare trasparenza anche in enti come l'ARPAC perché questa è una regione nella quale gli unici dati pubblici che abbiamo sulla terra dei fuochi vengono dalla US Navy e dallo studio Sentieri, cioè non vengono da enti pubblici dello Stato, della regione e della provincia. Non si può pensare di utilizzare i nostri militari come spot, li abbiamo già avuti a Napoli, li abbiamo avuti a fine anni 90 e inizio anni 2000, poi li stiamo avendo ancora che affiancano la polizia, ma in sostanza mortifichiamo anche il ruolo dei militari in questo modo perché non hanno la possibilità di operare, fanno il presidio. Tra gli emendamenti bocciati c'è la questione dell'inceneritore di Giuliano. L'emendamento è arrivato in aula per la votazione, quindi significa che secondo gli uffici della Camera l'emendamento era ammissibile in quel decreto, quindi coerente con l'impianto del decreto. Quando è arrivato in aula, Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente del PD, il PDL e tutti i quali hanno detto ma questa non è una discussione che si deve fare qui, io presiedevo io in quel momento. Quindi era ammissibile o non era ammissibile? Era ammissibile perché se no non si sarebbe votato, invece l'abbiamo votato in aula, io presiedevo in quel momento e ho fatto presente al Presidente Realacci che l'emendamento era ammissibile, quindi era coerente col testo. PD, PDL, tutti tranne noi hanno votato contro. Questa è una terra che ha già dato, questa è una terra che ha pagato, si sono inventati l'emergenza rifiuti solidi urbani, cioè la busta, il sacchetto e l'immondizia, per coprire i rifiuti industriali. Solo un ottavo dei rifiuti in Campania è solido urbano, gli altri sette ottavi sono rifiuti industriali e tossici. Da dove bisogna iniziare, visto che dati ufficiali ce ne sono così pochi? Bisogna iniziare sicuramente da uno screening sui terreni, però a scadenza. Il problema di questo decreto è che è un decreto emergenziale che però non individua un tempo entro cui bisogna fare gli esami sui terreni. Quindi arrivano i soldi, poi chissà quando si fanno le cose. Esatto, questo l'hai detto tu. No, no, non l'ho detto io, sembrava di capire che era questa la tua posizione. Però il problema è anche un altro. Cosa vogliamo fare dei terreni su cui si sono costruite case in questi anni e quelli che magari troviamo come terreni da bonificare? La tendenza del decreto, ed è un rischio che c'è, è quella di non bonificare ma fare culture alternative. Questo significa che, per esempio, potremo diventare la regione delle biomasse di tutta quella roba per la quale svenderemo il nostro territorio, il nostro terreno agricolo, non lo rigenereremo mai dal punto di vista della salubrità e semplicemente lo consegneremo alle multinazionali. Legge elettorale, argomento principe di questi ultimi tempi. L'argomento di distrazione di massa di questi giorni. Perché non dialogare con Renzi, visto che tra le sue proposte ce n'era una simile alla vostra? Noi abbiamo fatto e stiamo facendo la legge elettorale con una consultazione online sul portale del Movimento 5 Stelle e i cittadini sono assistiti da docenti universitari e scelgono per step che legge elettorale vogliono. Il primo step è stato fatto, proporzionale e maggioritario hanno scelto il proporzionale. Poi giusto per creare un po'... Ma funziona questa scelta per step? Non penalizza poi... No, come là in commissione, nelle commissioni alla Camera si fa così, si fa il pillolario, cioè si fanno tutti i punti su cui sono d'accordo i gruppi. Noi lo facciamo con 80 mila cittadini. Renzi lo fa con Berlusconi nella sede del Nazareno. Questa è la differenza. Il risultato finale è che alla fine è uscito un semi porcellum. Da quell'incontro è uscito il porcellum, perché questo è il porcellum, ma un premio di maggioranza assegnato da una forza che raggiunge il 35%, è un premio di maggioranza abnorme, non ha le preferenze, ha dei collegi che ci illudono di votare i candidati del territorio, ma la ripartizione dei seggi è su base nazionale. Ciò significa che se io prendo il Movimento 5 Stelle prende il 20% in Campania e prende il 10% in Veneto, se in Campania il PD o il PDL che vincono vengono a prendere più seggi, qui non ne eleggiamo nessuno e in Veneto magari ne eleggiamo uno. Ma perché non provare a parlare con Renzi? Noi ogni, ma non bisogna parlare con Renzi, nella Commissione Affari Costituzionali ogni giorno i nostri parlano con quelli di Forza Italia, con quelli del PD e abbiamo detto se avete la sensibilità di aspettare il nostro processo decisionale, facciamo la nostra proposta di legge elettorale e poi ne discutiamo. Quindi tu dici sono loro che non hanno aspettato noi? No, io dico semplicemente che abbiamo due approcci completamente differenti, loro vogliono fare gli accordi fuori dal Parlamento, noi vogliamo prendere le proposte dei cittadini, di portarle in Parlamento e discuterle con i partiti di tutto l'emiciclo, è un approccio completamente differente, io faccio il Vicepresidente della Camera, io credo nella Camera dei Deputati, questi invece credono nell'accordo, nelle stanze chiuse, lontane dai riflettori, sono due approcci che da una parte hanno portato all'Italia che conosciamo, gli accordi si sono sempre fatti da un'altra parte, poi Berlusconi li ha sempre fatti saltare, tutti i leader del PD che sono andati a fare un accordo con Berlusconi, non sono sopravvissuti a Berlusconi. Stai avvertendo Renzi? No, non lo sto avvertendo, credo che lui lo sappia benissimo, evidentemente anche lui gode, vive quella sindrome dell'Arakiri nel Partito Democratico, però al di là di questo, io credo che noi dobbiamo portare avanti la nostra linea di dialogo con i cittadini, perché è sempre premiata, questa legge l'avranno fatta 100.000 persone, sono sempre di più di Renzi e Berlusconi, uno pregiudicato Berlusconi, Renzi condannato in primo grado dalla Corte dei conti per danno erariale quando faceva il Presidente della Provincia di Firenze, questa gente non dovrebbe decidere neanche su che moquette comprare a Montecitorio, stanno decidendo su una legge elettorale che è la più importante del nostro Paese dopo la legge di stabilità. Va bene, grazie Luigi Di Maio, grazie a voi, ciao.